bimbe, bimbotte, buongiornissimo, buongiorno amore, amore, buongiorno amore, ciao, amore mio, Ani, buongiorno cuccioletta, sveglia che si va a scuola, va bello amore mio, buongiorno, fatti vedere con questa magliettina fucsia, sei bellissimissima, senti vuoi andare a scaldarti un po' col forn che tu hai sempre freddo la mattina, si è stappato il nasino, ti era tappato? si, meno male, dai andiamo a scaldarci un pochino col forn perché è già tardissimo come tutte le mattine, e poi la giocazione, si, e poi c'ho una penita, esatto, e poi ti scrivo che vuoi uscire per pranzo, si, ciao, buongiorno anche a te amore, ciao, siamo un po' in ritardo stamattina Vanessa, senti un po', la merenda di ieri andava bene? Te la rifaccio così? ok, dai, veloce, tata prontissime per andare a scuola, fatti vedere amore allora amore, ascolta, visto che abbiamo un po' di difficoltà nel pettinare i tuoi capelli perché ci sono un po' di nodini, giusto? io mamma le ho pettinate sono lisce si, eh, te li ho pettinati per modo di dire si, sono lisce, ok, facciamo la prova se sono lisce allora, mettiamo le manine eh, vedi? Vedi che non vanno avanti? quindi, stasera ci laviamo i capelli e cerchiamo in qualche modo di togliere questi nodini fastidiosi, ok? ma ciao amore, ma fatti vedere ma tu stai andando a scuola o stai andando a fare la settimana bianca? con bianca a scuola con bianca sei bellissima, wow grande giorno, oggi è il giorno in cui tu non metti il? grande esatto perché vai in palestra ok, andiamo perché se lo facciamo tardi come tutti i giorni ma che traffico c'è? siamo completamente fermi in tangenziale non in tangenziale, sulla statale e sono le 8 e 23 siamo in super ritardo tra un minuto aprono i cancelli anzi forse li hanno aperti adesso, infatti e se piove arriva la nede sì amore, perché oggi siamo a meno un grado e quindi potrebbe nevicare dai, andiamo che magari siamo riusciti a uscire fuori dal traffico finalmente ragazzi sono riusciti a portare le bambine a scuola un pochino in ritardo ma perché stanno facendo tantissimi lavori e sulla statale che da casa nostra porta in città eravamo praticamente bloccati ma anche sulla tangenziale eravamo bloccati forse c'è stato anche qualche incidente come quasi tutte le mattine purtroppo allora, come avete ben notato Anastasia ha questi capelli completamente annodati perché non si pettina quasi mai fa fatica a pettinarsi, fanno fatica a farsi pettinare da me poi appena arriva una mia amica a casa che gli dice facciamo le trecine facciamo lo chignon, facciamo questo, facciamo quell'altro si fanno fare di tutto ma da me non si fanno fare niente anche voi ragazzi non vi fate pettinare dalla vostra mamma scrivetemelo nei commenti ma vi volevo anche chiedere un suggerimento esiste un modo per districare i capelli senza farla piangere, pettinarla? io adesso mi documento e mi sembra di aver letto che con la piastra i nodi si sciolgono scrivetemi nei commenti se è vero quello che sto dicendo io adesso sono sotto casa di non Elisa e nonno Silio e mi vado a bere un buon caffè da loro e aspettiamo che escono le bimbe oggi pomeriggio alle 4 e mezza eccomi ragazzi sono le 4 e mezza sono fuori dalla scuola di Vanessa e Anastasia e stanno per uscire ho due sorprese per Vanessa e Anastasia lo scopriamo dopo insieme bentornate Anastasia ciao ciao e Vanessa ciao allora bentornate da scuola ho una piccola cosa da comunicarvi ho due sorpresine cioè una sorpresina a testa volete saperla adesso? no 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 non sono grandissime sorprese sono due io già rido ve le dico? sì sì? chi vuole saperlo per primo? io no tu? io allora per te ho stampato una piccolissima verifica di geografia per la verifica che avrai domani un piccolo esempio ma sì che a te piacciono queste cose e per te finalmente mi sono ricordata di comprare la risma così domani la portiamo ok? felici di queste super sorprese? allora Anastasia come abbiamo detto stamattina adesso fate merenda poi Vanessa inizia a studiare e tu vai a lavare i capelli che dobbiamo togliere questi nodi eh va bene? sì com'è andata a scuola? bene ah sì? hai mangiato? e te amore hai fatto ginnastica? vi han portato in palestra neanche oggi? ma perché? non lo so cosa avete fatto al posto di palestra? oggi non ho fatto niente ma non capisco andate in pausa pranzo e poi quando c'è la lezione non vi portano come se non fosse una materia come tutte le altre questa cosa non mi va molto giù comunque andiamo a casa dai guarda d'amore può essere utile? ah sì la devo andare a buttare no amore mio ti sbagli beh dai un aiutino eh devi riconoscere in base alle definizioni la cartina geografica cosa c'è? Anastasia e Vanessa Anastasia stai ancora finendo l'altra merella? devi rubare quella tua sorella? hai capito? in base alla definizione devi dire di quale cartina geografica stiamo parlando ok? non si parla adesso puoi farlo adesso però vorrei capire anche al contrario cioè se io ti dico una cartina topografica se tu mi sai dire la definizione e soprattutto devi saperle riconoscere le cartine vere e proprie ok? quelle che hai sul quaderno ok ma quante merende state facendo? guardate un po' ragazzi 15 merende e ne stanno facendo ancora guardate che io le ho prese per scuola se le finite domani non ne avete più adesso basta eh vuoi Anastasia? poi andiamo a pettinarci andiamo a to... sì 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 andiamo a pettinarci e andiamo a lavare i capelli ok? senti Vanessa ascoltami ho letto su internet che la piastra districa i nodi ok? io adesso le lavo i capelli le metto il balsamo eccetera eccetera poi tu mi aiuti le piastre i capelli che io devo fare un po' di lavatrici mi dai una mano? ok Ani? dai finite la vostra quindicesima merenda e poi vale tu devi anche studiare mamma mia meno male che domani è venerdì e few moments later bimbe dai dobbiamo andare dai Anastasia andiamo a piastrare questi capelli perché altrimenti domani non puoi nemmeno andare a scuola ma perché vi siete cambiate? perché ci erano sboccate eh per forza con tutte le merende che avete fatto scommetto di latte al Nesquik ieri mi incontrò il cioccolato ecco tu ti stai per addormentare mi fai questo favore? eh? allora ascoltati e allora ma sì invece e invece sì soprattutto tu per te guarda tua sorella si 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 tua sorella dovrà perdere del tempo per stirarti i capelli perché guardate ragazzi dammi una ciocca di capelli dammi una ciocca di capelli aspettate aspettate perché adesso arriva cos'è che devi fare? devi prendere il cibo facci chiudete gli occhi chiudiamo gli occhi e giratevi questa la valessa anch'io? si va bene cosa sta facendo? è tutta macca ok allora prendere il cibo cosa hai fatto? ecco un arancino ah tu hai gli arancini dei capelli? si io volevo dimostrare ai nostri amici che i tuoi capelli sono incroccati guardate guardate piano eh se no si innervosisce guarda guarda non scendono le dita allora facciamo una cosa io adesso vado ad accendere la piastra vado ad accendere la piastra perché ci vogliono ci vuole qualche minuto prima che raggiunga la temperatura e poi va ne? via gli stiri perché io devo preparare la cena ok? ok ragazzi accendo la piastra alle bimbe vediamo di riuscire a sciogliere questi nodi ad Anastasia accendiamo e mettiamo mettiamo 200 non si vede ragazzi però l'ho impostata sui 200 perché se mi avvicino troppo è troppo sfocato va bene aspettiamo che raggiunge i 200 gradi e poi iniziamo con il trattamento mamma è pronta? mamma è pronta? si è pronta dai 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 venite venite che è raggiunto la temperatura oh allora vanè vanè mi raccomando stai attenta a non bruciare tua sorella ascolta vuoi iniziare così o vuoi magari raccoglierli da una parte? soprattutto dove ci sono i nodi mi raccomando dove sono? dietro sono dietro? dai vediamo se veramente funziona questa teoria eh ma sono i nodi Ani per forza che ti fa male sembra viscita esce il fumo? si mi senti caldi? adesso ancora no? non li senti caldi? si sono volenti mi sento caldi ma anche tipo viscili tipo viscili viscili morbidi hai paura? un pochino sì che ti brucia ti piace vanessa? vorresti fare la parrucchiera da grande? no vero? no e sto ricopiando sulla mia gamba quello che adesso fa mai niente e che cos'ho? ah la faccia delle donne sì sto ricopiando quella qui ti piace disegnare a te? vero? hai fatto un disegno l'altro giorno ricopiato bravissima sei stata bravissima ti stai divertendo la prossima volta me li fai tu a me eh? puoi anche farteli tu un po' perché ridi a parte che io adesso li ho completamente lisci i miei sono liscissimi veramente? ho fatto la brasiliana sì maia ma sta ecco proprio quello è il nodo vai 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 Ani calmati sei stufata oh ma cosa fai Anastasia ti sei bruciata porca miseria ma perché ti sei girata così Ani ma sei matta poverina ho capito ma lei ha una piastra a 200 gradi accesa eh oh va poverina ti brucia ma dai guarda la prossima volta non vi faccio fare più niente povera povera eh amore ti devo mettere la pomata eh perché adesso ti brucerà tanto guarda è sempre il sangue no amore mi brucia tantissimo addirittura i brivili ma lo so guarda che le scottature sono pesanti aspetta che cerco la pomata un attimo perché dovrei averla quando cerco qualcosa non la trovo mai vediamo se qui qua non c'è fatto fatto un attimo 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 non lo trovo si chiama le fuel aspetta un attimo magari è qua aspetta un secondo noi abbiamo un sacco di muo eccola eccola l'ho trovata l'ho trovata aspetta vale dov'è male ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua non esce vai ok piano fai piano tanto male gioia sai che adesso ti esce la bolla amora ti escerà la bolla c'è sangue eh c'è sangue ah no sangue no è rosso però è che è una scottatura tua sorella non è normale guarda prima si vuol far far fare cose poi si scoccia e non vuole più farlo vabbè senti ti brucia amore hai ragione adesso la teniamo sotto controllo non togliere la pomata perché quella pomata lì è molto efficace e tra massimo un quarto d'ora il bruciore passa ok dai e allora il video finisce qua amore mi dispiace ti chiedo scusa per averti fatto fare questa cosa però non pensavo che tua sorella si rivoltasse così ragazzi il video è finito mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video quindi ciao 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 Grazie per la visione!